Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear the dream? I primi ragazzi li troviamo proprio nella montagna quella dietro lande letali come vedete qua c'è lande noi siamo proprio dietro all'ex accampamento i palloncini sono qua gli diamo una bella picconata e i primi palloncini sono scoppiati per la seconda posizione invece ragazzi dobbiamo raggiungere lo spot quello delle pallette prima di rifugio ritirato come vedete basta semplicemente raggiungere la parte sotto dell'ombrano ed anche qua un altro gruppo di palloncini è stato scoppiato numero 2 fatto la posizione numero 3 invece come vedete siamo nella parte destra di sprofondo stantio tra le due montagne dove una volta qua c'era la come si chiama la base di partenza degli aeroplani nella season 7 andando sotto vedo che c'è qualcun altro che sta facendo la sfida troverete qua i palloncini li tirerete li scoppierete e la posizione numero 3 è fatta la posizione numero 4 invece bisogna raggiungere palmetto paradisiaco anche qua ragazzi proprio all'ingresso prima del palazzo gigante con la piscina c'è un mega ombrellone e come al solito proprio sotto troveremo il quarto gruppo di palloncini ci atterriamo di fianco una bella picconata numero 4 fatto se non ci allontaniamo troppo ragazzi come vedete lì alla mia sinistra c'è il grande ombrellone appena preso possiamo atterrare in questa piccola oasi che vi avevo già fatto vedere nel primo video quello dove dovevamo danzare nelle spiagge del beach party e anche qua nettamente easy un altro gruppo di palloncini ben due in realtà vi permetteranno di poter completare la vostra sfida quindi ragazzi anche per questa sfida è tutto vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su noi ci vediamo in live ciao